Rappresenta un fatto emblematico per lo sviluppo dell'offerta turistica della regione Abruzzo, principalmente per i territori di Pescara e Chieti. Un riconoscimento importante, emblematico, che punta un faro enorme sul turismo sull'Abruzzo e su tutte le attività legate al turismo. Da oggi l'Abruzzo riuscirà ad offrire un segmento ulteriore all'offerta turistica, un segmento legato al turismo ambientale, quindi parliamo di sentieri, sentieri per cavalli, sentieri per biciclette, un turismo legato strettamente al mondo ambientale, un turismo che viene visto con grande interesse non solo in Italia ma da molte parti d'Europa e anche del mondo e quindi oltre al mare, le montagne, le colline e tutte le nostre bellezze, da oggi l'Abruzzo potrà contare su un'ulteriore arma affascinante che ha per quanto riguarda l'offerta turistica.